A solo 15 anni il giovane di Scafati ritenuto responsabile di aver esploso alcuni colpi d'arma da fuoco ferendo un altro giovane ad una gamba. I carabinieri della tenenza di Scafati in collaborazione con la sezione operativa Carabinieri di Nocere Inferiore hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa su richiesta della Procura della Repubblica dal GIP del Tribunale per i minorelni di Salerno nei confronti di un 15enne indagato perché nella notte del 13 febbraio scorso a Scafati avrebbe estratto una pistola ferendo un altro giovane di 20 anni ad una gamba. Il minore gravemente indiziato per i reati di lesioni personali aggravate e detenzione di una pistola calibro 7,65 utilizzata per il ferimento. Ci troviamo di fronte ad un ennesimo episodio di violenza questa volta aggravato dall'uso di un'arma comune da sparo consumato in pieno centro cittadino e alla presenza di altri giovani manifestazione di insensata e gratuita aggressività attese le inesistenti motivazioni che avrebbero determinato il ferimento della vittima. Questo è il commento espresso in una nota dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. Lo scambio di sguardi e una risposta ritenuta provocatoria sono molto spesso le cause determinanti di eventi qua come quello che si è verificato lo scorso 13 febbraio a Scafati. Sempre più spesso si registrano gravi fatti di violenza commessi da minori e giovani adulti le cui motivazioni sono di tale levità e banalità da apparire più che come la causa determinante l'evento un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento e di sopraffazione.